Ciao a tutti e benvenuti su TouchGaming In questo video vi spiegherò come completare la sfida Visita la cima del monte Egan in Red Dead Online Tutto quello che dovete fare è semplicemente arrivare sulla cima di questo monte Quindi dalla mappa mettete un segnalino al monte Egan Adesso zoom indietro e vi faccio vedere dove sta Praticamente nei pressi di Valentine Qui sotto Grizzly West Cioè sopra Grizzly scusate sotto Mountain Egan Mettete un segnalino qui e poi indirizzate il cavallo E quindi potete mettervi a fare altro mentre il cavallo vada solo Una volta che avete raggiunto la cima Sbloccherete o meglio completerete la sfida del giorno Se questo video vi è servito cliccate sul pollice in alto Iscrivetevi al canale per supportare TouchGaming E per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento Su fodero So Farragh